Pazienti costretti a sottoporsi alla dialisi con temperatura fino a 40 gradi, senza l'aria condizionata. E' stata ebollente anche per i diabetici della Valle Peligna che hanno presentato un esposto al Tribunale per i diritti del malato e avviato una raccolta firme per chiedere interventi urgenti al fine di risolvere la situazione. Le temperature di questi giorni hanno messo in ginocchio i pazienti che ogni giorno si regano nel reparto di diabetologia dell'ospedale di Sulmona per accedere alle varie prestazioni sanitarie. La cappa di AFA e umidità delle ultime ore ha spinto però i diabetici ad alzare la voce e rivolgersi agli organi competenti. Un disagio che si ripeterebbe anche nel corso della stagione invernale, quando, al contrario, le temperature sono rigide e fredde. Non ci sarebbe dunque un ambiente confortevole per i diabetici che si sottopongono a dialisi e la situazione orava risolta, una volta per tutte. E' un problema che purtroppo si verifica e abbiamo constatato, conferma il presidente dell'Associazione Peligna Diabetici, Salvatore Del Boccio. Abbiamo preso in carico l'esposto, presenterò dei pazienti. Non appena sarà portata a combimento la raccolta firme, la gireremo alla ASL, ma anche alle istituzioni, annuncia la responsabile dell'area legale del TDM, Katia Puglielli. Scoppio è caldo dunque a diabetologia con i pazienti che sono sul piede di guerra. Scoppio è caldo dal trino a dodattuto. Grazie a tutti.